we bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi anche oggi abbiamo un bel po di novità per quello che riguarda il futuro di fortnite purtroppo c'è un grandissimo interrogativo registro questo video circa verso mezzanotte di ieri e non ci sono informazioni sulla patch 14.10 come vi dicevo purtroppo abbiamo da fare le sfide della settimana numero 3 quindi era sicuramente in arrivo la patch ma è stata trovata una cosa nuova nei file di gioco ovvero sia le sfide possono adesso essere aggiornate senza dover scaricare un update praticamente i punti esperienza sono sempre uguali quindi anche l'ultimo punto saldo dell'arrivo delle patch è stato distrutto non sappiamo nulla comunque nel video di oggi parleremo dell'arrivo di un nuovo supereroe vedremo l'uscita ragazzi della xbox series oh my god e tante tante altre cose prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticate di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica con i miei video news e allora andiamo direttamente a parlare del primo argomento di oggi ed è nuovamente un aggiornamento per quanto riguarda la grande vicenda legale di apple versus epic games lo sapete sicuramente piccolo briefing fortnite non è più nell'app store quindi non si può più giocare sui dispositivi ios perché perché da quando hanno abbassato il prezzo dei vbucks non hanno più pagato le commissioni sull'acquisto dei vbucks da parte degli utenti a apple questo ovviamente ha scatenato il putiferio e purtroppo adesso epic games risente tanto di questa di questa cosa che ha inciso notevolmente sui suoi guadagni parliamo ragazzi con un dato aggiornato a qualche ora fa di 600 milioni di dollari il che è quantificato con 210 milioni di utenti persi che giocavano solo da ios e che quindi non hanno più possibilità di andare avanti con i propri progressi su fortnite dalla season 4 arriva ieri nella tardo pomeriggio una notizia ed è proprio pubblicata in un tweet da fortnite status che dice apple win no longer hello user to sing into fortnite using sing in with apple e su nel settembre 11 2020 io non so bene come funziona ragazzi login da ios non ho mai avuto un iphone in vita mia ma dall 11 settembre non potrete più lo gare su fortnite utilizzando il loga con apple accedi con apple se qualcuno rivede questo questa voce non la conosco il che vorrebbe appunto forse dire che tutto verrà chiuso definitivamente sappiamo ragazzi che il 28 settembre arriverà la sentenza finale della corte l'ultima sentenza dove epic si è nuovamente rivolta dopo aver vinto la possibilità ovviamente di continuare a sviluppare il loro motore grafico la real engine che voleva essere bloccato da apple e purtroppo sembra davvero che non ci sia una soluzione è veramente un peccato e non so mi dispiace mi dispiace davvero tanto per questo per quella cosa che appena successa e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché c'è un'altra novità per quanto riguarda i rift beacon sapete benissimo che nel corso di queste ultime due settimane abbiamo visto come nonostante i rift beacon siano stati messi in cerchio si siano anche attivati sempre di più per arrivare fino a formare un raggio luminoso che in alcuni casi ha preso la colorazione rossa lo abbiamo ri associato ad un file che abbiamo trovato nei file di gioco dove diceva che un rift rosso avrebbe riportato acri anarchici una nuova acri anarchici ed effettivamente il il cerchio rosso che si è fermato dai rift beacon era proprio intorno a fattoria ieri è stata aggiornata nuovamente una cartella dei file dedicati a rift beacon che si chiama statesman over vuol dire praticamente che da adesso i rift beacon piano piano cominceranno a spegnarsi non sappiamo il perché ed infatti se guardate in gioco noterete che le luci sono un pochettino più affievolite probabilmente è un buon segno perché stan per arrivare qualche cosa il che io mi immagino arrivi con la patch 14.10 insomma staremo a vedere e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché come vi anticipavo nell'intro del video c'è sicuramente l'arrivo di un nuovo eroe marvel perché ne sono così sicuro anche qui sono stati scoperti dei dati quindi dei numeri e delle voci che adesso vi faccio vedere relative ad un misterioso eroe come dice upcoming fireball ability from a character that their name starts with si stanno arrivando delle statistiche per un nuovo potenziamento di una palla di fuoco che saranno attribuite ad un carter quindi ad una skin che inizia per c cooldown due secondi il danno più grande alle strutture 150 al più piccolo 75 il più grande danno ai giocatori 100 il più piccolo 50 1,25 secondi il tempo di caricamento immagino tra una palla di fuoco e l'altra e fireball life 10 secondi penso la durata dell'effetto della palla di fuoco e fire propagation 12 quindi l'intensità della propagazione del fuoco chi è questo carattere con la cbe ragazzi sembra essere proprio lei chi è lei signori lei è crystal crystal è figlia degli inumani quellin e ambure e membro della famiglia reale inumana visse ad attila fino a quando la famiglia reale non la obbligò a lasciare la sua città natale da maximus ha avuto in seguito una grande storia d'amore con johnny storm alias la torcia umana dei fantastici 4 successivamente si è sposata con quicksilver con il quale ha avuto una figlia di nome luna ma crystal si è rivelata una moglie infedeli suoi continui tradimenti hanno provocato furioso e liti con pietro che hanno spinto a lasciare che cazzo è taradarà 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 c'è una sweet con crystal ha anche fatto parte dei vendicatori dove ha incontrato il cavaliere nero tra i due è scattato subito una forte attrazione un pochettino è terminata con il tentativo di crystal di riconciliarsi con l'ex marito per il bene della loro piccola luna in un flashback si è venuto a sapere di un suo breve flirt era dappertutto è andata questa anche con l'eroe sentry sembra per ripicca johnny storm nel periodo in cui stavano insieme e avevano litigato quindi ragazzi il potere tra l'altro di crystal è proprio quello degli elementi lei è in grado di manipolare l'acqua il fuoco il vento e l'altro è un altro elemento che momentaneamente non mi riesco a ricordare quindi le fireball probabilmente potrebbero essere dedicate proprio a lei anche qui staremo a vedere penso tra pochi giorni con l'arrivo appunto della nuova pace e devo fare del prossimo argomento di oggi l'ultimo argomento di oggi perché sta facendo davvero il giro all'impazzata del web questa immagine the new xbox series x world's most powerful console la console più potente del mondo qua c'è un depliant pubblicitario perché 34,99 dollari al mese per 24 mesi se la volete pigliare a rate 499 dollari dovrebbe essere il prezzo stimato i preorder della console di casa microsoft saranno disponibili dal 22 settembre ed è una notizia ufficiale non abbiamo ovviamente ancora nessuna informazione per quanto riguarda l'uscita della playstation 5 insomma ragazzi anche per oggi tante news quelle che ho trovato in giro vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video mi raccomando non dimenticate di lasciare un bel pollicione in su iscrivetevi ai miei canali e a me mi trovate proprio adesso in live su twitch ciao la chiamavano crystal filtrava di brutto flertava di brutto la chiamavano crystal flertava di brutto flertava di brutto l'hanno vista con l'amico della torcia umana l'hanno vista anche con l'amico dell'amico della torcia umana